Dagli occhi al naso, dalle mani all'orecchio fino alla bocca, mangiare è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e cucinare è una grande responsabilità, oltre ad essere un atto nobile. Chi sceglie di farlo sa che avrà sempre da imparare e che rischierà sempre di sbagliare affrontando l'incerto. Emanuele Petrosino crede che nella cucina italiana siano nascosti i segreti del gusto ed è per questo che non intende svelarli. Matteo Messina invece l'Italia l'ha attraversata tutta per tentare di raccogliere il meglio dei prodotti. Insieme, attraverso quello che sanno fare meglio, con gli ingredienti che dal mondo ci invidiano, realizzano una pizza con la delicatezza della fassona alla pizzaiola e la fumicatura della provola. Scambiandosi i segreti sottovoce, nell'orecchio, sanno che rientrano tra quei pochi privilegiati che hanno l'onore di custodire la parte più intima dell'arte culinaria. Grazie. Grazie. Grazie.